Ci hanno detto di chiudere tutto, anzi hanno chiuso tutto, ma hanno chiuso da tempo, teatri, hanno chiuso ristoranti, hanno chiuso le piscine, hanno chiuso le palestre e ci hanno detto che tutto ciò serviva a contenere il virus del Covid di cui tutti parliamo. Beh, cosa sta accadendo? Che il virus del Covid non solo non si è fermato ma ha ricominciato e quindi ci dicono di chiudere ancora, di chiudere di più. Ecco, questo innesca un ragionamento che va fatto, in particolare per la categoria dei ristoratori che è quella che in questi giorni si sta muovendo di più per protestare contro una situazione che li sta vedendo morire, ma in generale riguarda un po' tutti. Allora, facciamo conto dei ristoratori, mi sono segnato alcune cose. Si era detto tavoli distanziati, quindi minor afflusso di clienti, è stato fatto. Poi la sanificazione degli ambienti, è un costo. Poi ancora la sterilizzazione del tovagliato con l'ozono, anche questo è un altro costo. Poi ancora la misurazione della temperatura, e questo per quanto riguarda i ristoratori. Vogliamo parlare delle palestre, addirittura gli fu dato una settimana di tempo, se non ricordate bene il periodo, una settimana per mettersi in regola, per poter rimanere aperti. Dopodiché, tutto chiuso. Ecco, tutto chiuso provoca ovviamente un'enorme crisi economica. Pensiamo solamente non ai grandi ristoranti di Roma, quelli nelle vie più affollate o di Milano, o insomma, nelle grandi città. Pensiamo ai piccoli borghi, dove magari il ristorante lavora solamente il sabato e la domenica, quando dalle città si spostano. Oppure, pensiamo agli agriturismi, che hanno più o meno la stessa tipologia di clienti. Beh, questi stanno morendo, qualcuno è già morto, sono comunque destinati a morire se non lavorano. Ma che cosa succede quando una serie di attività commerciali muoiono? Succede che c'è la disoccupazione, succede la crisi sociale, succede che il costo economico della crisi sociale va nuovamente ad incidere sul costo generale di sostenimento di un paese. Allora, certo, il Covid è un nemico da combattere. Certo, non possiamo sottovalutare la salute pubblica, ma non possiamo sottovalutare nemmeno l'economia delle famiglie. Ecco, io credo che col distanziamento, con la misurazione della temperatura, con la sanificazione con l'ozono, con tutti i presidi che ci sono stati detti necessari per prevenire la diffusione della malattia, i ristoranti, per esempio, potevano tranquillamente continuare, perché quello è il numero massimo di persone controllate in quella maniera che poteva entrare. Invece è stato detto che questo non andava bene. Qual è il problema? Quello del ristoratore o quello del controllo esterno? E se il problema è il controllo esterno, è un problema dello Stato o di noi singoli cittadini? Beh, diciamo metà e metà, anzi forse 80 e 20. 80 per lo Stato, perché deve essere in grado di controllare e lasciare aperte le attività che sono regolari. 20 anche di noi cittadini, che spesso delle regole ce ne freghiamo, innescando poi una serie di provvedimenti ulteriori che in realtà stanno ammazzando non solo l'economia degli imprenditori, ma anche delle famiglie. Allora, la mia posizione è che forse si poteva ragionare in maniera diversa. Chiudere tutto non è la soluzione. Chiudere tutto è non affrontare il problema perché non sai come controllare la situazione. Ma l'abbiamo già vissuta. È passato quasi un anno. Siamo ritornati praticamente alla stessa situazione del marzo del 2020. Credo che questo non sia tollerabile. L'economia è un valore per il nostro Paese, soprattutto l'economia della piccola e media impresa, e va tutelata. Certo, ripeto, questo è il mio dipensiero. Apriamo un dibattito. Tu che ne pensi? Privileggi il Covid e quindi la lotta contro il Covid e quindi chiudere tutto pur di uscirne? O, come penso io, fare in modo che il Covid venga contenuto lasciando però in vita chi sta ancora lottando economicamente parlando per sopravviere? Diceva Marcello Marchesi L'importante è che la morte ci trovi vivi. Credo che mai, come in questo periodo, questa frase abbia un senso. Apriamo un dibattito.